Grazie per il suo intervento. Io un attimo vorrei soffermare proprio sull'ultimo punto che lei menzionava, cioè il disenso dentro la Russia, su cui non si parla oppure da per scontato che questo disenso non esiste e che i percentuali dell'appoggio del regime sono rimasti tali come erano prima di guerra. A parte che anche prima di guerra qual era esattamente l'appoggio al regime non si sa perché abbiamo a che fare con un sistema autoritario dove fare affidamenti ai sondaggi anche poco professionali e usare poi queste per varie argomentazioni. La situazione in Russia e i fattori da considerare da quel punto di vista è che la popolazione è sottoposta a una propaganda che in qualche misura eccede anche quello dei tempi dell'Unione Sovietica. che ovviamente poi influenza le loro posizioni e posizionamento ma che poi in Italia nessuno realmente ha voluto mai capire cosa pensano alcuni russi liberali, tra virgolette, di questa guerra. Perché quello che abbiamo visto noi in questi mesi, soprattutto subito dopo l'inizio della guerra, affolamento dei propagandisti russi. Si invitavano ai vari talk show italiani di giornalisti che erano pagati direttamente dallo Stato, insomma dal Cremlino, addirittura erano giornalisti di ministeri della difesa. Questa televisione Svezda, che è una televisione della difesa e la giornalista, insomma passava da otto e mezza a di martedì a non è arena, insomma non è mai mancato nessun talk show finché poi alcuni di noi non ha detto, insomma che forse a tutto c'è un limite, no? Perché qua non si tratta di non confrontarsi con i giornalisti russi ma perché invitare i giornalisti quando semplicemente possiamo leggere il TASS. Questo è uno. Il secondo, questi giornalisti, se non tutti, buona parte di loro sono stati inclusi nella lista dei sanzionati della Commissione europea oppure le medie per cui lavoravano questi giornalisti sono stati inclusi in questa lista e nella motivazione l'Unione europea ha detto l'informazione e la guerra della informazione per il Cremlino rappresenta un strumento bellico e le sanzioni mirano a limitare la diffusione della disinformazione e per l'altro quindi questi talk show vuol dire che andavano anche indirittimamente in violazione dei sanzioni imposti dalla Commissione europea poi per fortuna quella ondata è passata ma appunto non è stato mai un tentativo di capire cosa pensavano i liberali russi di questa guerra come vedono il loro futuro perché poi è un certo paradosso che quando si parla c'è la coincidenza in una cosa che prima Similiano appunto diceva questa idea di paragonare a Germania in Ucraina e come Germania deve essere denazificata e come deve passare lo stesso cammino di dopo la sconfitta che ha passato la Germania dopo la sconfitta il punto è che i liberali russi e ieri io sentivo uno dei politologhi diceva che quello è il futuro in realtà per la Russia lui diceva che noi dopo la sconfitta che mi diceva non c'è neanche un scenario sotto il quale la Russia possa vincere questa guerra dopo la sconfitta ci aspetta lo stesso destino di rieducazione che hanno passato i tedeschi dopo la seconda guerra mondiale ma questa informazione non ci arriva mai in Italia in Italia per esempio non ha parlato nessuno che ultimi giorni in Russia c'è questo fenomeno poi di organizzarsi da solo seguito all'ata commissilistica a Dnipro in pratica in varie città russe i cittadini russi identificano i monumenti dei famosi scrittori, musicisti insomma celebrità ucraine vanno a questi monumenti e lasciano o le foto della casa del palazzo distrutto abitativo distrutto di Dnipro oppure lasciano i fiori per commemorare le vittime di Dnipro e ci sono vari video diffusi come queste persone vengono arrestate ma è stato un movimento anche molto spontaneo di donne fra l'altro e quindi c'è anche una sorta di dimensione donne in questa resistenza che è magari poca e tutto avviene magari in silenzio ma non viene mai ripresa e nessuno mai parla e si preferisce sempre dire che ecco non c'è futuro per nessun regime change e ci sembra che Putin abbia lo stesso appoggio di sempre con questo vorrei passare la parola a Orio Giorgio Stirpe che è colonnello in congetto dell'esercito italiano specializzato in analisi operativa buongiorno sono l'ufficiale in congetto dell'esercito cercherò cercherò di non andare troppo avanti nel tempo questi sono i contenuti del mio briefing e sostanzialmente che cos'è al momento l'obiettivo della disinformazione russa la disinformazione sostiene gli obiettivi strategici della nazione nel nostro caso di un regime questi obiettivi vengono perseguiti non in maniera casuale esiste una pianificazione ben precisa su come portarli a termine il modo in cui vengono portati a termine è prescritto in un corpo dottrinale previsto dalle forze a disposizione del regime in occidente si tende a parlare di questa dottrina come dottrina Gerasimov è un abuso del nome del capo di Stato Maggiore dell'esercito russo non esiste un documento con questo nome è il nomignolo che gli abbiamo dato noi perché questa dottrina è stata individuata dal punto di vista intelligence occidentale sotto la tenuta del capo di Stato Maggiore con questo nome è più esatto parlare di guerra ibrida che cos'è la guerra ibrida cioè il corpus che contiene tutte quante le misure attive avanzate del giorno d'oggi che vediamo in atto in questi giorni c'è stata una crisi delle aspirazioni imperiali russe dopo la risoluzione dell'URSS e una forte frustrazione dei dei vertici politici russi succeduti all'Unione Sovietica perché loro si sono visti l'impero sgretolato dal loro punto di vista non in modo leale con una guerra ma si sono visti sgretolare il loro potere con quello che si chiama il soft power occidentale in generale e americano in particolare tutta una serie di capacità economiche politiche ma anche semplicemente culturali e informative sviluppate anche in maniera incoerente non mirate da parte dell'Occidente e degli Stati Uniti in particolare che hanno poco a poco distrutto il sistema sovietico nel momento in cui è sorta di nuovo una forza centralizzata russa e il regime ha deciso di elevare nuovamente il livello dello scontro con l'Occidente è sorta quindi la necessità di impiegare in modo speculare a quello americano percepito come una sorta di congiura tutti i mezzi del sistema nazione russo in questo modo le misure attive sono state aggiornate e sarà fatta una riforma dello strumento militare che includesse anche l'impiego di strumenti non militari e quindi ibridi ed è evoluta quindi quella che noi chiamiamo la guerra ibrida sotto il punto di vista dottrinale cosa c'è all'origine di tutto questo all'origine di tutto questo ripeto c'è la strategia del regime russo che si rifà con assoluta continuità a quella originale dell'unione sovietica resto scusate se da militare vi impongo qualche cartina questo è il fronte occidentale russo nel 1942 alla vigilia della battaglia di stalingrado siamo nel cuore della grande guerra patriottica che dal punto di vista culturale per la russia in questo momento storico è l'elemento centrale della propaganda interna russa ma anche del modo di sentirsi dei cittadini russi la linea rossa che vedete era molto approssimato a sciabolate il fronte prima della battaglia di stalingrado andava da l'iningrado a rostov era lungo approssimativamente 1700 chilometri e distava meno di 500 chilometri da mosca alla fine della seconda guerra mondiale cosa abbiamo abbiamo la cortina di ferro l'unione sovietica è riuscita a respingere la minaccia occidentale quale che essa sia che essendo occidentale per loro è automaticamente nazista l'hanno respinta fino alla famosa cortina di ferro la linea da Lubecca a Trieste l'aveva chiamata così Churchill nel 1946 la cortina di ferro era lunga solo 1200 chilometri dal punto di vista militare questo è importante dal punto di vista della sicurezza questo è fondamentale un fronte corto da difendere nei confronti della minaccia percepita da Ovest ma soprattutto questa linea distava 2000 chilometri da Mosca il che dà un senso di sicurezza a un regime con la caduta del patto di Varsavia questo fronte si sposta si sposta su un'altra linea particolare si chiama geograficamente Istmo Ponto Baltico è la linea che va da Kaliningrad a Odessa è lunga 1500 chilometri quindi è più lunga della vecchia cortina di ferro e dista solo 1000 chilometri da Mosca la metà di quello che era la linea precedente dal punto di vista di chi siede a Mosca questo è un grave smacco ma non è finita perché con la fine dell'Unione Sovietica la linea retra ancora dal punto di vista russo siamo di nuovo sulla linea da San Pietroburgo a Rosto 1700 chilometri meno di 500 chilometri da Mosca dobbiamo capire che questo dal punto di vista russo non è soltanto una minaccia al regime perché la minaccia percepita da Ovest si è avvicinata ma soprattutto questo è l'annullamento dei frutti della grande guerra patriottica è un'umiliazione percepita da ogni singolo russo e sfruttata dal regime per rappresentare la minaccia dell'Occidente è stato manipolato l'intero popolo russo nel vedere un'avanzata da Ovest avanzata che non c'è stata perché non ci sono russi caduti sotto l'egemonia sotto il potere straniero queste sono tutte quante nazioni che sono diventate indipendenti e che per qualche strana ragione hanno scelto di non essere più alleate della Russia una volta che sono diventate indipendenti quindi qual è la strategia a lungo termine del regime russo è recuperare una linea di fronte difendibile da quella che è la minaccia percepita da Occidente ma la minaccia percepita da Occidente è reale oppure no noi sappiamo benissimo che nessuno di noi ha intenzione di attaccare la Russia non c'è un motivo pratico per farlo non c'è un motivo politico per farlo non esiste neanche una capacità militare per farlo il problema è che la sicurezza è percepita a Mosca dal regime russo così come da quello sovietico precedente come un quantitativo a somma zero cosa significa questo significa che se la sicurezza del mio avversario percepito aumenta la mia automaticamente diminuisce perché il mio avversario sicuramente ha intenzione di aggredirmi non esiste il dubbio quindi esigenza del regime confini sicuri sfere di influenza e ma sfere di influenza significano qualcosa di particolare le sfere di influenza significano che la dignità delle nazioni non dipende dal diritto internazionale ma dipende esclusivamente da quella che è la loro potenza Vladimir Putin si vanta di essere uno judoka ed effettivamente nella sua politica lui usa le tematiche tipiche del judo in quanto lui cerca di sfruttare contro l'avversario la forza dell'avversario però lui gioca anche a scacchi il problema è che questo judoka gioca a scacchi quindi ha un avversario l'avversario percepito come suo pari dalla Russia è unicamente gli Stati Uniti d'America tutte le altre nazioni hanno una dignità inferiore e lo ha detto chiaramente esistono le nazioni indipendenti ha detto lui e esistono le colonie non lo sto dicendo io lo ha detto lui in pubblico ora questo cosa significa che sulla scacchiere ci sono due giocatori che giocano manovra nei loro pezzi e i loro pezzi sono le nazioni di dignità maggiore e poi ci sono le caselle della scacchiere che sono le nazioni con dignità ancora minore le quali non hanno il diritto di decidere da che parte stare la loro collocazione dipende esclusivamente dai giocatori dallo scontro fra i giocatori tra i pezzi che il regime russo usa esiste anche l'economia noi siamo abituati ormai da tempo a ritenere che i governi prendono le loro decisioni sostanzialmente in base a motivazioni fondamentalmente economiche quindi ciò che non conviene economicamente non si fa ovviamente questa non è una regola generale ma è parte della struttura portante del modo di governare in occidente la russia non fa così il regime di putin ha un uso completamente opposto l'economia è uno strumento della strategia per cui se è possibile pagare per esempio svendendo le proprie risorse naturali per ottenere un vantaggio strategico imporre una dipendenza energetica a qualcun altro si fa ottimo non importa che si tratta di risorse non rinnovabili quel che conta è la sicurezza espanderla il più possibile abbiamo avuto la crisi di Aromaiden è già stata presa in considerazione da chi ha parlato prima di me qui vorrei semplicemente tornare sul punto fondamentale del grande equivoco russofonia russofilia e russofobia dal punto di vista del regime russo chiunque parli russo è quasi sicuramente ovviamente naturalmente anche filo russo secondo questo ragionamento gli irlandesi dovrebbero essere tutti quanti filo inglesi per non parlare del canton ticino il problema è che questa convinzione non è soltanto propaganda ma è anche un'intima convinzione dei membri del regime che non riescono a capire come sia possibile che qualcuno che parla russo come lingua principale non si senta anche russo è inconcepibile ma questo era un problema che avevamo anche noi nel 2014 quando c'è stata la crisi io ero a un comando italiano ero nella cellula intelligence e cerchiavamo di seguire l'andamento delle cose e la prima domanda che ci siamo posti ammaestrati dalle esperienze precedenti e dei conflitti a bassa intensità dove l'equilibrio etnico era fondamentale siamo chiesti dov'è la linea di di faia tra russofoni e gente che parla ucraino non l'abbiamo individuata non ci siamo riusciti non riuscivamo a capire finché non ci siamo resi conto appunto che la lingua non era il fattore di rimente ovviamente non lo era neanche la religione non lo era neanche la politica perché è vero che l'Ucraina era divisa grosso modo tra due partiti fondamentali chiamiamoli gli arancioni e i blu dove gli arancioni erano più filo occidentali e i blu erano più filo russi ma noi abbiamo visto che tantissimi che votavano blu non solo si sono opposti all'aggressione russa ma hanno proprio impugnato le armi per difendersi perché si sono sentiti traditi da quelli che percepivano come i loro migliori amici questo è quello che si chiama in gergo un black swan un cigno nero che interviene in una situazione geostrategica e cambia le carte in tavola sorprendendo tutti erano tutti impreparati a questa eruzione a questa spaccatura dell'Ucraina attraverso faglie sconosciute che nessuno conosceva il capolavoro della guerra ibrida è stata l'acquisizione della Crimea prontamente effettuato dai russi sfruttando la situazione e ovviamente una dittatura in questo caso ha un enorme vantaggio sulle democrazie c'è una persona che decide dice mandiamo le forze speciali occupiamo la penisola approfittiamo del momento ha funzionato perfettamente ha funzionato meno bene nel Donbass perché perché appunto fatto una operazione fatta dopo quando la gente aveva cominciato a rendersi conto di quello che succedeva già si sparava già c'era violenza già c'era l'aggressore e l'aggredito intervenire in soccorso dell'aggressore non gemera popolarità non da parte di chi subisce la situazione quindi a questo punto invece di avere un capolavoro come quello della Crimea abbiamo avuto un altro conflitto bloccato come Putin ne aveva già generati in Georgia in Transnistria e in Siria l'offensiva ibrida però a questo punto era partita l'ostilità con l'Occidente c'era esistevano le prime sanzioni l'offensiva ibrida russa prosegue nei confronti dell'Occidente l'assurdità di questa offensiva ibrida è che il messaggio fondamentale che veicolava era che la Russia aveva bisogno di prevenire attivamente l'aggressione di qualcuno che era più deboli di lei prevenire l'aggressione del più debole eppure il messaggio è passato largamente perché qui andiamo a quelli che erano i messaggi principali del periodo fino all'anno scorso la Russia è una grande potenza emergente l'invidia per questa capacità russa di emergere genera la russofobia i russi quindi sono perseguitati a causa di questa russofobia anche se non si capisce bene chi sono di volta in volta questi russi quelli che parlano russo quelli con passaporto russo non è chiaro l'euromaiden come è stato già detto era ovviamente un complotto occidentale un colpo di stato organizzato all'estero organizzato benissimo un complotto perfetto ma gestito malissimo tant'è vero appunto che si sono perse sia la Crimea che il Donbass quindi abbiamo il complotto perfetto ordito dal perfetto imbecille perché gli americani ovviamente sono pasticcioni però i loro complotti sono perfetti e nessuno se ne accorge per tempo torniamo a vedere messaggi che cozzano contro il buonsenso eppure passano siccome passano l'autostima cresce aumentano le ambizioni e abbiamo avuto le crisi degli interventi russi sia in Siria che in Libia a questo punto il regime ormai lo sappiamo aveva già in mente di proseguire la sua attività fino alla ripresa di possesso dell'Ucraina perché doveva riportare un fronte difensivo difensibile sull'istmo ponto baltico su quelli che erano i vecchi confini dell'Unione Sovietica i temi della disinformazia per giustificare la guerra sono già stati riportati il genocidio strisciante nel Donbass supposto negato da tutti gli osservatori OSCE compresi colleghi e amici erano lì e lo negano imminenza di una supposta aggressione ucraina non si è mai capito se l'aggressione doveva essere portata al Donbass o addirittura alla stessa Russia e dicono perfino che è stato perfino riconosciuto da alcuni politici tedeschi che sì l'Ucraina si sta preparando certo che si sta preparando si sta preparando a difendersi proprio perché aveva intuito chiaramente le intenzioni russe in quanto gli ucraini e i russi li conoscono bene le assurde ambizioni dei nazisti ucraini l'Ucraina abbiamo detto è piena di nazisti con grosse ambizioni imperiali loro stesse i missili della NATO quante volte abbiamo sentito parlare dei missili della NATO spostati a ridosso del confine russo o addirittura all'interno dell'Ucraina quando i russi i missili in realtà li avevano schierati a Kaliningrad e stiamo parlando dei famosi Iskander che tranquillamente colpiscono Berlino in pochissimi minuti ma ce li avevano loro noi non ce li avevamo la NATO non aveva schierato missili che potevano colpire il territorio russo aveva schierato missili antimissili in territorio polacco e rumeno anzi in territorio polacco non erano neanche ancora schierati erano previsti però tutto questo per loro erano provocazioni insostenibili la famosa immagine della NATO che abbaia i confini della Russia e quindi la guerra era inevitabile le misure attive per supportare la guerra una volta che la guerra è scoppiata bisogna far sapere al mondo che la Russia è una grande potenza economica la Russia è resiliente può sopportare tutto ma la Russia ha un prodotto interno lordo inferiore a quello italiano ma loro lo possiamo anche noi siamo una grande potenza economica superiore a loro i conti non tornano la Russia è una grande potenza culturale guai a parlare male di un autore russo sei russofobo cioè io se laico tosto mi addormento questo fa di me un russofobo no fa di me uno magari con un basso livello culturale lo ammetto io non sono neanche laureato sono un lurido piede nero ufficiale di fanterie ma no non sono russofobo la Russia è una grande potenza militare ora qui mi sono scontrato così tante volte con i miei colleghi che avevano questa immagine dell'armata rossa invincibile ora ragionamento semplicissimo ma se la federazione russa ha un prodotto interno lordo inferiore a quello italiano quale potrà essere il suo bilancio della difesa per quanto gonfiato perché altrimenti saremmo una grande potenza militare anche noi loro gonfiano il loro bilancio della difesa a livelli pazzeschi e lo elenono fino a livello in realtà grosso modo di quello britannico va detto però che lo strumento militare britannico è molto più piccolo di quello russo è circa un ventesimo di quello russo ed è mantenuto piuttosto bene quando uno però ha una potenza nucleare strategica circa la metà del suo bilancio della difesa lo deve dedicare alla triade strategica quindi quello che era il bilancio di livello britannico si riduce della metà l'esercito russo però è venti volte quello britannico quanto efficiente potrà essere un enorme esercito mantenuto con un budget della difesa del tutto inadeguato per quanto gonfiato eppure la vittoria russa è inevitabile è assolutamente ovvio a chiunque abbia buon senso che la russia non può che vincere non c'è bisogno di spiegare il perché è solo perché è la russia perché è così grossa e infatti non è soltanto il livello militare è anche il livello della rappresentanza cioè la russia ha uno zar l'ucraina il piccolo comico come lo chiamano tantissimi in italia un capo di stato che tra l'altro di statura è più alto di Vladimir Putin è il piccolo comico all'interno la disinformazia segue tematiche diverse soprattutto il problema è la minaccia esistenziale al ruski mir il mondo russo tutti ce l'hanno con loro e la gente ci crede in russia però hanno una superiorità morale infliggono perdite tragiche agli ucraini e noi europei stiamo morendo di freddo in ucraina comandano i nazisti la loro guerra in realtà è contro la nato è per questo che ancora non hanno vinto però la russia rimane invincibile però come giustamente veniva osservato è stato detto recentemente in televisione che se per disgrazia dovessero perdere finirebbero tutti all'aia compresi è stato detto gli spazzini che pulivano il cremlino perché ovviamente ci sarebbe la vendetta dell'occidente all'esterno si punta di più su Euromaiden col Polistato sulle promesse tradite fatte a Gorbaciov sull'espansione della nato le sanzioni economiche fanno male solo all'occidente le basi nato a Mariupol vi ricordate quanti alti ufficiali della nato erano nei bassi fondi nei piani più bassi della Zovstal assieme ai nazisti di Zov laboratori biologici americani dovunque sul territorio ucraino il mondo multipolare ecco la Russia a partire dai famosi BRICS sono tutti al fianco della Russia infatti gli forniscono supporto militare economico e tutto quanto la Cina ha perfino chiuso l'unica fabbrica per droni che esisteva in Russia era cinese la Cina l'ha chiusa e infatti hanno dovuto cominciare a comprare quelli iraniani l'occidente non può permettersi un conflitto lusso lungo la Russia sì in Italia è ancora più specifico il punto fondamentale di questa già ricordata supposta amicizia particolare tra il popolo russo e quello italiano a me mi aveva colpito come in particolare spesso venisse ricordato il terremoto di Messina in cui gli equipaggi di alcune navi russe che si trovavano in Rada sarebbero intervenuti generosamente per soccorrere la popolazione terremotata è vero erano lì mi sembra il minimo però nessuno ricorda per esempio nel 1989 c'è stato un terremoto nel nel Caucaso e i primi aiuti che sono arrivati da quelle parti sono stati i volontari dell'associazione nazionale alpini con loro ospedale da campo l'Italia è una colonia americana però chi comanda non sono gli americani ma sono i burocrati di Bruxelles la Nato è andata ad abbaiare i confini della Russia le sanzioni economiche danneggiano solo l'Italia il nostro PIL è ancora in crescita però siamo estremamente danneggiati quello russo è crollato del 18% mi sembra Zelensky ha le ville in Italia ma pretende che gli italiani facciano sacrifici per pagare la sua guerra la sua guerra nota bene qualcuno ha mai sentito parlare di dimostrazioni di popolazione di gente ucraina per la pace contro il governo ucraino per costringere il governo ucraino a trattare eppure in Europa abbiamo milioni di profughi ucraini perché questa gente non scende in piazza a protestare contro il loro governo che gli impone una guerra che loro non vogliono forse Zelensky ha un controllo di polizia sulla sua popolazione anche all'estero migliore di quello di Putin insomma occorre lasciar vincere la Russia altrimenti ci sarà la guerra nucleare ho capito che le domande le faremo in seguito però immagino che la discussione continuerà più avanti io vedo in tutto questo per quel che riguarda l'Italia chiedo scusa ai giornalisti presenti un certo livello di impreparazione da parte di molti che amano riportare direttamente quanto scritto dagli outlet russi senza commentarli ma questo è un commento esterno da parte di uno che giornalista non è e non ha titolo a fare un commento del genere mi scuso per averlo fatto grazie a tutti